La macchina di CNC è normalmente controllata da un computer e software o controllo manuale. La CNC ha un pannello controllo con cui il tecnico decide l'operazione di essere fatta. La macchina funziona seguendo un programma che ha stato chiesto dal tecnico. Nel programma ci sono molti blocchi che diamo instruzione alla macchina. Puoi usare un programma già presente nella memoria della CNC, o puoi inserire un nuovo per l'edizione. In effetti, l'edizione di edizione permette un programma o parte dell'edizione di essere inserito, modificato o dilettato. Per fare tutte queste operazioni, il tecnico usa un piccolo cavolo posizionato sulla direzione del monitor. Per inserire il programma, scelta il modello di edit e clicca il monitor programmi. La prima linea deve contenere il numero programma, poi una serie di operazioni deve essere fatta. Per modificare un programma, scelta il modello di edit e clicca il monitor programmi. Poi inserisci il numero del programma che vuoi modificare e pressa il tasto software RISE O. Poi puoi cambiare il blocco falsetto del programma. Per il programma del programma, scelta il numero del programma e pressa il tasto RISE O. L'edizione è proteggente da un K-SWITCH, che permette o non permette di scrivere, quindi per evitare cancellare un programma per un errore. Procedure di testa programmi. Procedure di testa programmi. Queste procedure sono concerni con testa o controlla qualsiasi errore nel programma. In effetti, queste procedure devono essere fatte prima di lavorare sull'IDEM. Il tecnico può utilizzare 3 metodi e impugna per i punti diversi. Blocco di macchina. Simulare il lavoro di macchina senza utilizzare le strutture. Regolazione di velocità. Regolazione di velocità. Testa la velocità a cui la macchina sta lavorando per evitare la collisione tra l'appunto e il materiale. Testare con nessun contatto tra l'appunto e il materiale. Il testo permette di verificare il movimento di macchina senza utilizzare il materiale. Blocco di macchina. La macchina CNC funziona in un blocco ogni volta che puoi il botone numero 3. Blocco di macchina. Procedura di piegare. Prima di qualche operazione, la macchina per la macchina necessita una procedura di piegare. La procedura consiste in iniziare la piegare a velocità di specie. velocità. Questi velocità sono 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 rpm e ogni passo ultimo minuto. Operazione iniziale. Prima di iniziare le operazioni, il programma deve essere ricordato sul screen di programma in modo di memoria. Dopo questo puoi pulire il botto di iniziare. Al fine dell'operazione, la macchina CNC è pronta per ripetere il programma di nuovo. Grazie a tutti!